Il 24 giugno alla presenza di tanti fedeli del parroco Don Marco Mascarucci e del vescovo Armando Trasarti è stato inaugurato il nuovo centro parrocchiale La Fenice alla parrocchia Santa Polinare a Lucrezia di Cartoceto. Il vescovo che ha invitato la popolazione all'uso di questa struttura in tutti i suoi spazi e ricordato come sia nato il progetto ha poi tagliato il nastro insieme a Don Marco e al sindaco Enrico Rossi. Con l'inaugurazione di questa struttura si completa tutto il plesso parrocchiale. Il nuovo edificio ha una superficie di 1500 metri quadri divisi su due piani, stanze dedicate al catechismo, alle lezioni di musica, all'oratorio e una biblioteca. Poi un magazzino per la Caritas, un ascensore interno per disabili e un'area esterna verde per lo svago compresa di parcheggio. Siamo tutti contenti e lieti perché dopo aver celebrato la messa e aver dato gloria a Dio ora vogliamo concretamente dare lode anche con la condivisione di questa gioia che si estende a tutti. Vogliamo rendere tutti partecipi di questo evento facendo in modo che tutti sentano che questo centro è casa per tutti, è luogo di raccolta per tutti. Allora vogliamo essere veramente lieti e riconoscenti del Signore ma sono riconoscenti e siamo riconoscenti di coloro che hanno realizzato quest'opera dando veramente un sostegno concreto non solo in termini di denaro ma anche con l'aiuto e il volontariato che è necessario perché questo centro abbia vita a beneficio di tutti. Costo totale di 2 milioni di euro di cui 1 milione e 400 mila finanziati dall'otto per mille della CEI mentre il restante dalla diocesi. Lei ha ricordato che questa struttura vuole essere aperta a tutti? Sì, vuole essere aperta a tutti perché non possiamo chiudere il cuore a chi ha bisogno anche di aggregazione e per questo siamo veramente disponibili. C'è un gruppo di famiglie che prende le pronotazioni e si fa carico di queste richieste e noi cerchiamo del possibile di andare incontro a tutti e quindi questo ci sembra importante proprio perché il Paese abbia un beneficio concreto da questo centro. Il centro parrocchiale La Fenice nasce nello stesso punto dove un tempo sorgeva il vecchio cinema demolito poi nel 2016.